Quali le differenze e le differenze rispetto agli altri movimenti? Le differenze sono sostanzialmente programmatiche. Noi basiamo tutto su qualcosa che nelle altre liste indipendenti non ce li vediamo, perché comunque vediamo nei punti programmatici delle altre liste questa tecnica del rilancio, quindi far capire, far passare alla cittadinanza che è tutto possibile rilanciando certe strategie che ci hanno portato anche alla situazione odierna, quindi il casino piuttosto che un termovalorizzatore piuttosto che altre cose, sono cose che secondo noi non potevano creare un'unione. Poi opinare, le altre liste possono dire le stesse cose di noi, però sostanzialmente è proprio i vari punti programmatici che ci hanno fatto correre da soli.